Insomma, abbiamo prima chiesto al direttore Sartiano, non è soddisfatto ovviamente di come ha giocato la squadra, anche se avete dato fuori un punto e poi avete giocato per gran parte della ripresa in dieci. Però in quel primo tempo forse potevate fare qualcosa in più, impostare un po' la partita in maniera anche più offensiva. Ma io penso che comunque ogni partita è una storia a sé. Sì, domenica scorsa abbiamo disputato una buona partita contro un'ottima squadra, quindi è diverso magari anche la loro posizione in campo. La loro squadra, comunque anche un punto per loro era un miracolo, quindi tutti chiusi lì dietro. Per voi sta bene questo punto? No, se guardo gli obiettivi che abbiamo, magari la differenza con tutto il rispetto tra le due rose, se la posizione è in classifica è ovvio che non siamo soddisfatti. Però l'unica cosa che posso dire è che comunque il campionato è lungo, noi da martedì in poi già prepariamo la prossima partita contro il Notaresco, quindi è lunga e già dare giudizi affrettati è eccessivo. Quindi, ripeto, campionato lungo, ripareremo di sicuramente, cercheremo di correggere gli errori fatti oggi con lo staff, il mister e con tutti quanti. Noi in sede di Telecronica abbiamo visto, soprattutto nel primo tempo, tanti lanci lunghi, forse troppi, verso le due torri lì davanti, Fall e Ardemagni. Ma avendo due giocatori comunque così strutturati e sapendo le condizioni del terreno del gioco, non in perfette condizioni, abbiamo optato per questa soluzione. Certo, forse ne abbiamo approfittato un po' troppo, però comunque vanno fatti anche complimenti agli avversari, nel loro modo comunque di difendersi hanno portato a casa un pareggio d'oro. Una cosa positiva di questo pomeriggio probabilmente è il fatto che siete rimasti abbastanza presto in dieci per quasi tutto il secondo tempo e comunque avete giocato forse anche leggermente meglio rispetto al primo. Ma non è la prima volta che purtroppo restiamo in dieci, quindi comunque noi in settimana ci alleniamo tanto e bene, quindi ognuno di noi è pronto a fare una corsa in più per il compagno, anche nel caso succedono appunto questi inconvenienti, quindi siamo ben allenati fisicamente per poter sopperire agli errori. Quindi, poiché abbiamo giocato meglio o peggio da quando siamo in un'assin dieci, non lo so, poi in campo faccio pure un po' fatica a leggere la partita, quindi domani guarderò la partita con calma e quindi poi... Un'ultima cosa, Diego, adesso ci sono due gare interne consecutive e qui bisogna fare il bottino pieno. Bisogna fare il bottino pieno anche oggi, quindi che sono due gare interne, sì è vero, noi comunque dobbiamo scendere in campo, l'ho sempre detto, dobbiamo scendere in campo col coltello tra i denti e calcolare che ogni squadra è come se fosse l'assamele del tesi di turno, perché preparare una partita contro una prima della classe è troppo facile. Noi se vogliamo ambire a qualcosa di importante dobbiamo correggere appunto questi tipi di partite che purtroppo ci saranno, soprattutto se sei comunque nei piani alti della classifica, giocherai contro squadre che stanno comunque sotto di te e comunque dobbiamo cercare di vincere anche queste partite brutte, tra virgolette. Un po' mareggiati per il risultato, voi però forse anche dispiaciuti per i tifosi che come al solito vi hanno seguito? Quello è il primo dispiacere, perché giustamente loro col freddo, voi che di domenica, la maggior parte lasciano appunto famiglie a casa, dispiace, comunque noi è normale che scendiamo sempre in campo per dare il massimo, poi a volte viene, a volte non viene, a volte giochi male, giochi bene, però il campionato è lungo e l'importante è non perdere e restare lì attaccati, a meno al giro di boa.